salve a tutti amici e amiche il tema di oggi è stato proposto da uno di voi nei commenti mogain che qualche giorno fa mi scriveva ciao è da pochissimo che segue il tuo canale e scusa se ti considero con multitasking per cui ti vorrei chiedere se è davvero possibile che la russia usi un'arma nucleare se lo scenario si dimostrasse critico per la fanteria per i mezzi corazzati e in un futuro prossimo per la sua aviazione visto che la paranoia è in aumento e la voglia di salvare la faccia del presidente in questione sai qualche pensiero me lo pongo allora carissimo mi dispiace deluderti ma non sono affatto multitasking anche se apprezzo molto che tu abbia usato questo termine invece di tuttologo che a quanto pare oggi si usa con un'accezione negativa non sono proprio multitasking comunque ho sempre detto che sono più ferrato sui temi aeronautici e da lì posso allargarmi un poco anche ad altri approfondimenti sempre di materia militare cose così che rispecchiano i miei interessi ma se mi chiedi qualcosa di calcio per esempio credimi non saprei dirti la differenza fra coppa dei campioni e coppa del nonno cioè sono a questi livelli per quanto riguarda la geopolitica e l'analisi del conflitto in ucraina non faccio tutto da solo ma cerco di affidarmi a chi è più bravo di me e pubblica articoli sulle maggiori riviste internazionali così come i canali youtube internazionali più accreditati metto insieme le cose le incrocio e poi provo a confrontarle con le mie conoscenze sugli armamenti e le tecnologie militari e questa è un poco la mia ricetta quindi per esempio nell'ultimo video che hai commentato in cui parlavo degli f16 ci ho messo nel mio proprio perché ho studiato molto quell'aereo comunque il tema che mi hai proposto è particolare per essere onesto nessuno sa di preciso cosa accadrebbe se venissero utilizzate armi nucleari ma questo lo vedremo più nel dettaglio in ogni caso la storia del bombardamento strategico sulle città a prescindere che si parli di armi nucleari o meno è un discorso lungo e articolato che si basa fra l'altro su una dottrina completamente sbagliata a priori e dai principi molto poco etici e anche poco utili militarmente parlando la storia almeno ci insegna questo quindi per rispondere a questo commento diciamo prenderò in esame solo una possibilità cioè quella in cui per una pura follia autolesionista il cremblino autorizzi un attacco nucleare tattico contro l'ucraina o l'esercito ucraino cioè non considererò l'utilizzo dei missili intercontinentali su larga scala da fine del mondo perché è un argomento surreale che lascia il tempo che trova e non finirebbe bene per nessuno soprattutto per la russia e questo nonostante le provocazioni e le minacce e i blef del signor putin lui stesso lo sa molto bene ma comunque se anche queste armi da distruzione totale venissero lanciate tutte insieme tutte le bombe nucleari del mondo chiediamoci il mondo verrebbe distrutto la risposta è no il mondo in passato ha superato crisi e distruzioni di massa peggiori nelle sue ere geologiche il mondo sopravviverebbe alla razza umana e anche a qualche migliaia di bombe nucleari sulle città umane certamente le aree meno popolate o i paesi che non c'entrano nulla con queste con questi conflitti non verrebbero attaccati sarebbe molto difficile insomma che la terra diventi uno scenario alla mad max o fall out per intenderci però di sicuro le perdite umane sarebbero nell'ordine di miliardi avremmo a che fare con una crisi umanitaria su scala globale l'intera economia verrebbe azzerata ai minimi termini questo sì comunque prima di continuare con questi discorsi edificanti vi invito a iscrivervi al canale a lasciare un mi piace credetemi queste due azioni sono indispensabili per contrastare relazione incessante di una marea di bot e filo putiniani di noi altri che circolano su questa piattaforma quindi non siate timidi e pigiate i pulsantini qui sotto per sostenermi in questa iniziativa ma non perdiamo altro tempo e iniziamo vladimir putin negli ultimi anni ha più volte fatto delle dichiarazioni al limite della follia con frasi del tipo che la russia è la nazione più forte del mondo che non c'è storia per tutti gli altri che è meglio non provocarla che all'aviazione e l'esercito più forti e senza dire che chi si vanta da solo non vale un fagiolo la cosa più inverosimile è che poi queste frasi vengono prese alla lettera e ripetute dai tanti pappagalli in giro che fanno disinformazione anche su questa piattaforma ma ovviamente chi conosce la storia e gli equilibri delle forze in gioco non ci casca in queste dichiarazioni soprattutto vanno viste in chiave politica nella logica dell'elemento di distrazione o deterrente in un certo senso specialmente perché nel frattempo mentre si vanta di avere le forze armate più potenti del globo la russia ha violato sistematicamente tutti i trattati internazionali molti stati membri delle nazioni unite infatti in passato hanno proposto di cacciare la russia dall'organizzazione perché come dire è un controsenso che ci sia lo scopo primario dell'onu è di carattere umanitario e di impedire e risolvere i conflitti non di generarli quindi concorderete che se una delle nazioni fondatrici che in realtà e poi fra l'altro era l'unione sovietica non era non è la federazione russa ma se questa commette crimini di guerra un giorno sì e l'altro pure è veramente il colmo e mentre altri membri e nazioni civilizzate hanno raggiunto solidi equilibri politici alleanze e comunione di intenti la russia ha continuato a isolarsi e perseguire le sue mire espansionistiche minacciando e accusando l'europa di espandersi giustificando le sue aggressioni con la scusa di difendere la propria sovranità nazionale già molto comodo così è inutile dire che l'europa si faceva tranquillamente i fatti suoi riducendo fra l'altro la spesa militare in modo costante negli ultimi decenni con la speranza di vivere un periodo di prosperità e pace e solo dopo l'annessione della crimea nel 2014 qualcuno a bruxelles ha iniziato a preoccuparsi dicendo scusate ma non è che la russia l'ha fatta un attimino fuori dal vaso le ultime azioni del cremino insomma parlano chiaro come si dice gli uomini si giudicano per le loro azioni non per quello che dicono e appunto è per il semplice principio di causa ed effetto proprio in questi due ultimi due anni ad aggressione risponde una reazione tutto il mondo civile si è schierato con la parte lesa e svezia e finlandia si sono unite alla nato quindi grazie vladimir ottimo lavoro le uniche persone che riesce a intimidire sono giusto i tuoi collaboratori insomma questo fine è brillante politico e stratega è riuscito letteralmente a inimicarsi tutto il mondo civilizzato con il bonus di oltre 2000 chilometri di confini aggiuntivi con la nato e per quanto molti credono che la russia voglia sostenere il candidato alle elezioni presidenziali americane quello famoso quello col capello cotonato per intenderci in realtà che questo vinca o meno non cambierà assolutamente niente perché l'ucraina ha il pieno sostegno di tutta la nato non solo dell'america da cui riceve aiuti militari e forniture per qualcosa come 100 miliardi di euro a parte questo l'operazione militare speciale del cremino si sta dimostrando un'impresa insostenibile e quindi piuttosto che riconoscere di aver fatto un errore colossale e accettarla nelle conseguenze più volte negli ultimi due anni di conflitto il dittatore russo ha minacciato l'occidente con l'uso delle armi nucleari e cambiando anche tanto le sue versioni per cui ha minacciato di usarle nel caso in cui la nato fosse intervenuta a fianco dell'ucraina anche se non si è mai capito in che modo l'intervento della nato avrebbe scatenato una reazione nucleare cioè sono due anni che la nato supporta attivamente l'ucraina militarmente oppure nel caso in cui armi nato avessero colpito il territorio russo cosa che anche questa è venuta abbastanza spesso o nel caso in cui l'ucraina avesse cercato di riprendersi il proprio territorio e anche questo è successo molto più spesso di quello che si crede quindi non saprei queste minacce di putin mi ricordano un po' certe certe affermazioni di germano mosconi quando diceva cosa venite avanti ancora vi do un pugno la realtà dei fatti storici con cui abbiamo a che fare è che nel 2022 con la prima invasione su larga scala i russi credevano di far capitolare l'ucraina conquistare la capitale e sostituire il governo con dei pupazzi di comodo ma come sappiamo le cose non sono andate proprio come speravano l'invasione da nord è stata respinta così come a est e sud le zone che vi mostro evidenziate in verde sono proprio i territori liberati dopo la prima invasione del 22 quindi il conflitto oggi si è arenato in una guerra che dura da due anni e per ogni metro che i russi riescono a rubare agli ucraini lo pagano al prezzo di un enorme numero di mezzi e vite umane quindi dato che ho già affrontato questo discorso che riguarda proprio le perdite insostenibili del conflitto vi passo il link in descrizione se vi interessa ma a parte questo ormai molti dei principali canali di analisi militare e articoli parlano di un conflitto che non può durare a lungo non può essere sostenuto così a lungo quindi a un certo punto risorse uomini e materiali finiranno e cosa accadrà a quel punto cosa accadrebbe se per esempio gli ucraini iniziassero a marciare sulla crimea che gli è stata sottratta nel 2014 e sia chiaro è la russia non ha nessun diritto di prendersi pezzi di territorio altrui che non le appartengono i confini ucraini fra l'altro furono stabiliti proprio nel 1994 da accordi fra le due parti e non è che oggi invadendo la lucraina quei confini non valgono più insomma ma supponiamo per un attimo che gli ucraini si riprendono la crimea occupata e che putin percepisca la cosa come l'umiliazione definitiva e voglia vendicarsi e dimostrare che non stava bleffando sull'uso dell'atomica come ha detto lui stesso mesi fa prima di tutto l'autorizzazione all'uso di queste armi in russia è di per sé una questione delicata cioè non è come in america che è solo il presidente alla valigetta i codici di lancio sono divisi in tre valigette a mosca una è nelle mani di putin l'altra nel segretario della difesa e l'ultima nel responsabile delle forze armate ok diciamo che questo non è un problema per lui perché tanto ha sempre messo dei burattini incapaci di dirgli di no nei ruoli di controllo e nelle più alte cariche dello stato però bisogna ricordare che l'utilizzo delle armi nucleari è una realtà solo nella dialettica geopolitica legata al discorso di mutual assured destruction cioè distruzione mutua assicurata acronimo che in inglese suona come mad mad parola che già di suono inglese significa folle pazzo la teoria dietro l'utilizzo di queste armi è che negli stati uniti né l'unione sovietica avrebbero mai potuto usarle perché in quel caso la risposta reciproca sarebbe stata la distruzione mutua distruzione questo era almeno quello che si pensava durante la guerra fredda oggi però la paura di una guerra nucleare sembra più reale di quanto lo sia mai stata in passato e anche gli assetti geopolitici sono decisamente cambiati cioè non ci troviamo di più di fronte ai due grandi schieramenti ma tipo tutto il mondo civile contro un criminale supportato giusto da un altro caso umano che è tipo l'unico a mangiare pizze e maritozzi mentre gioca a fare il dittatore di un paese dove la popolazione muore letteralmente di fame e poi chi altro ah sì c'è giusto una manciata di stati africani canaglia che nelle scuole elementari ti insegnano a usare il kalasnikov prima che a scrivere comunque a leggere fra le righe la politica ufficiale russa sulle armi nucleari prevede l'uso esclusivo di queste come deterrente in alcuni scenari molto specifici come ad esempio nel caso in cui la russia subisca un attacco sul proprio territorio o di un territorio suo alleato con missili balistici armi nucleari o altre grandi armi di distruzione di massa che distruggano strutture russe o mettano in pericolo le sue capacità nucleari o l'aggressione contro lo stato russo con armi convenzionali quando la sua stessa esistenza è messa a rischio ora al contrario delle idiozie espresse sull'espansione dell'europa l'esistenza della russia non è mai stata messa in pericolo mentre quella dell'ucraina sì e poi non è minimamente possibile che gli ucraini lancino un attacco nucleare per primi o utilizzino armi di distruzione di massa contro la sovranità nazionale russa quindi di cosa stiamo parlando dall'altra parte putin ha minacciato apertamente di usare armi nucleari in ucraina più e più volte durante il conflitto degli ultimi due anni e passa in uno di questi discorsi due anni fa includeva la minaccia di utilizzare tutti i mezzi disponibili per proteggere la russia e il suo popolo se l'integrità territoriale della russia fosse stata minacciata aggiungendo questo non è un blef ha detto proprio così ora questo è un discorso particolare perché appunto si è inventato una guerra dicendo che molti nel donbass si sentivano russi ok quindi lui in realtà è un liberatore è un democratico dobbiamo immaginarcelo così che fa il bene delle persone è liberare il mondo da questi uomini strani pieni di tatuaggi di destra che tipo neanche giocatori della lazio o i trapper nostrani hanno quindi a questo punto mi chiedo se un domani qualcuno in italia si barricasse che ne so nel campanile di san marco a venezia dicendo roma ladrona noi non siamo italiani abbasso l'europa e iniziasse a indossare magliette con la faccia di putin sopra o altri simboli nostalgici credendo tipo in una storia che sembra uscita da un romanzo di philip dick mi chiedo la russia farebbe bene a invadere la pianura padana ora sto scherzando è un saluto a tutti i veneti con grande affetto ho vissuto per quattro anni in veneto e ne conosco tanti e so anche molto bene come la pensano i veneti su queste questioni non vogliatemene ma da quando la guerra in ucraina è iniziata in tanti fra esperti ed analisti si sono chiesti se putin sarebbe davvero capace di lanciare un attacco nucleare e credetemi ci sono centinaia di siti web e canali dedicati a questo argomento il punto è che nessuno sa rispondere con certezza a questa domanda ci sono tantissime risposte diverse opinioni e speculazioni alcuni credono che putin potrebbe usare le armi atomiche come ultima risorsa in un gesto di follia e questo diciamo non è per niente rassicurante mentre altri credono che queste dichiarazioni fanno solo parte della dialettica politica e che mira a sollevare giusto dibattiti ai vertici nato l'opinione pubblica la stampa e generare confusione e niente di più cioè è una dialettica di minaccia per evitare un'esaltazione del conflitto per mettere in guardia l'occidente da non intervenire in ucraina ma il punto è che questo conflitto non riescono a vincerlo e per quanto potranno mai avanzare l'ucraina non si arrenderà e anche in caso in cui lo facesse le cose comunque non andrebbero bene per la russia in ogni caso e voglio dire la storia purtroppo è piena di esempi di dittatori che hanno invaso altre nazioni com'è finita sapete farmi un solo singolo esempio di invasione di un altro paese finita bene del resto uno degli aspetti più importanti della questione è che putin ha iniziato a minacciare il mondo non appena ha realizzato che la sua guerra non è andata come previsto cioè non si è reso conto del suo fallimento e che gli ucraini si erano ampiamente preparati prima dell'invasione ma dobbiamo ma se dobbiamo crederci a questo punto cosa intende putin quando parla di reazione nucleare in conseguenza a un attacco del territorio russo cosa intende per territorio russo a questo punto secondo l'ex presidente russo dimitri medvedev i territori occupati avranno la protezione delle armi nucleari ma allo stesso tempo non si può dire che la russia ha davvero il pieno controllo delle aree occupate cioè solo quest'anno ci sono stati tanti piccoli progressi nella liberazione di città e piccole fette di territorio ucraino quindi questa protezione nucleare non si applicava per queste aree non si è ancora vista quindi a cosa dobbiamo credere ma a parte questo cosa accadrebbe se la russia utilizzasse le armi atomiche secondo eric schlosser autore di command e control che è un libro che parla della storia delle armi atomiche e anche di alcuni casi in cui si è rischiata la fine del mondo su questo tema ha pubblicato un articolo recente nel 2022 dicendo che esistono quattro possibili scenari in cui la russia potrebbe usare le armi atomiche in ucraina il primo scenario è una rappresaglia simbolica in mare aperto nel mar nero per esempio per mandare un segnale molto forte senza causare vittime il secondo è prendere di mira kiev o il presidente ucraino e il suo staff e questo apparentemente per sostituire il governo ucraino anche se diciamo un attacco del genere non sarebbe visto proprio bene a livello internazionale terzo caso usare le armi nucleari contro obiettivi militari nel tentativo di evitare di coinvolgere i civili ok questo lo vedremo nel dettaglio però anche questa opzione è piuttosto opinabile soprattutto perché la russia ha già commesso una lista molto molto lunga di crimini di guerra atrocità e torture contro i civili ucraini voglio dire lanciare uno sciame di missili da crociera contro chi è la capitale non è meno grave di lanciare un piccolo ordigno tattico alla fine e infine ultimo scenario la russia potrebbe bombardare un'intera città qualsiasi come gesto simbolico per forzare l'ucraina ad arrendersi un poco come fecero gli americani con il giappone nel 1945 ma il punto è che gli americani uscivano da una guerra nel pacifico spaventosa e il giappone li aveva attaccati per primo e per l'arbor aveva invaso la cina le isole insomma non era proprio la vittima della situazione senza contare che gli americani non sarebbero mai riusciti a conquistare via terra il giappone lo sapevano soprattutto temevano che i civili giapponesi in massa avrebbero seguito l'imperatore che era venerato come un dio e avrebbero preferito piuttosto suicidarsi in massa piuttosto che arrendersi quindi paragonare il giappone del 1945 all'ucraina moderna che ha il sostegno fra l'altro di tutte le democrazie occidentali ed è dalla parte di chi è stata invasa pigliaccamente non è proprio la stessa cosa insomma bombardare una città ucraina trasformerebbe la russia oggi nella nazione più infame della storia umana tipo per sempre per i prossimi millenni a venire ma al di là di minacciare di usare il folle numero di ordini tattici e missili intercontinentali disponibili siamo sicuri che la russia non ha già fatto qualcosa di peggio il 4 marzo 2022 la centrale nucleare di zaporischia è stata occupata dalle forze di invasione russe che hanno iniziato a usarla come base militare nonostante gli avvertimenti che poteva innescarsi una fusione nucleare in quella che è considerata la più grande centrale nucleare d'europa il capo dell'agenzia internazionale per l'energia atomica raffael mariano rossi dopo aver visitato l'impianto ha affermato che le linee elettriche erano state prese deliberatamente di mira e questo come dire farebbe diventare putin una delle persone più folli e calcolatrici che il mondo abbia mai visto se l'impianto perde energia per troppo tempo potrebbe causare una catastrofe nucleare attualmente l'impianto è stato spento ma necessita ancora di elettricità per pompare acqua e raffreddare i suoi reattori queste pompe in genere funzionano automaticamente con l'energia generata proprio dai reattori ma essendo le linee interrotte adesso l'impianto si affida ad uno solo dei suoi reattori per generare il minimo indispensabile per raffreddare l'impianto ma ovviamente non è stato progettato per funzionare così e non potrà continuare a lungo nel caso di un guasto ci sono comunque dei generatori di emergenza generatori diesel che possono andare avanti per una decina di giorni ora secondo un altro ricercatore steven nesbitt che si occupa del caso se accadesse il peggio e la centrale restasse senza energia causando una fusione probabilmente l'incidente non sarebbe così grave come per esempio quello di fukushima in giappone perché l'intero impianto ha avuto abbastanza tempo per raffreddarsi ed è escluso che possa generarsi un evento come quello di cernobil perché di fatto cernobil era un impianto difettoso progettato male ma resta il fatto che è l'impianto oggi è ostaggio delle forze russe che risiedono all'interno e questo come dire non preclude niente di buono per il futuro quindi se parliamo di minaccia nucleare quella che ho descritto è molto più concreta di quello che viene detto da putin a parole almeno la minaccia nucleare più concreta di cui possiamo parlare oggi soprattutto se la consideriamo in termini di una eventuale ritorsione con le truppe russe schierate all'interno dell'impianto comunque poi bisogna ricordare che fra stati uniti e russia ci sono accordi per la limitazione limitazione delle diffusione delle armi nucleari a partire dal 1970 dopo proprio fra l'altro dopo la crisi dei missili di cuba con accordi siglati per stabilire una sorta di controllo reciproco fra le parti gli ultimi accordi in questa direzione erano stati fatti nel 2011 con il programma new start che prevedeva un'ispezione reciproca dei propri arsenali periodica da parte di ispettori dei due paesi queste ispezioni regolari e periodiche andarono avanti per anni e furono interrotte a causa del covid ma con l'invasione dell'ucraina la russia ha sospeso queste visite a tempo indeterminato a parte questo comunque la russia oggi continua a fare comunicati agli stati uniti sulla movimentazione del proprio arsenale e le esercitazioni per esempio e infatti non a caso ne avrete sentito parlare di esercitazioni nei giornali arrivano proprio da queste comunicazioni fra le due parti quindi almeno una parte di questi accordi viene ancora rispettata e questo fa pensare che la russia non userà nessuna arma atomica in ucraina ma questo ci porta comunque alla parte finale di questo video che ripercussioni avrebbe l'utilizzo di un'arma tattica nucleare in ucraina per rendere la russia great again per usare lo slogan del tizio con i capelli cotonati insomma che ripercussioni avrebbe il più grande disastro geopolitico del ventunesimo secolo nel caso sciagurato in cui la russia lanciasse un attacco di questo tipo tipo di una singola arma tattica la risposta degli stati uniti sarebbe immediata possiamo immaginarla in due tipi di risposta due tipi di livelli di risposta la prima sarebbe la risposta immediata che avverrebbe nel giro di poche ore se non minuti dall'attacco e consiste nel distruggere immediatamente il sito o l'unità responsabile dell'attacco da cui è partito proprio l'attacco nucleare la capacità degli stati uniti di condurre un attacco di questo tipo sulla zona del caucaso o della russia la si può esprimere in minuti se non un'ora o due a partire dal momento dell'attacco è molto probabilmente condotta con attacchi con aeri stealth o missili da crociera stealth che non darebbero il tempo alla russia di rendersi neanche conto della situazione la russia poi ha tre opzioni per condurre un attacco nucleare tattico cioè può farlo con un veicolo mobile lancia missili balistici con un bombardiere lanciando un ordigno tattico o con un sottomarino lanciando un piccolo missile balistico nel caso di un lanciatore da terra verrebbe immediatamente localizzato e distrutto così un sottomarino gli stati uniti non avrebbero problemi a individuarlo e distruggerlo stessa cosa vale per l'aeroporto da cui è partito l'attacco aereo che verrebbe immediatamente raso al suolo e questo diciamo sarebbe solo il primo livello di una reazione ad un attacco nucleare il secondo livello di conseguenze per un'azione del genere da parte americana riguarderebbe la distruzione su larga scala delle forze russe all'interno della stessa ucraina e questo avverrebbe presumibilmente con una campagna aerea su larga scala mediante l'uso di missili da crociera e di centinaia di raid aerei al giorno che potranno partire dalla flotta statunitense nel mediterraneo dalle basi in italia dalla germania e dall'inghilterra questi assetti sono già pronti non aspettano altro in sostanza solo nel mediterraneo ci sono due super portaerei ognuna delle quali con più di 200 aerei pronti per queste circostanze in quel caso insomma lo zio sam sarebbe in grado di applicare alla lettera la cosiddetta superiorità aerea e per quanto i filorussi più ottimisti siano convinti che la russia abbia un'aviazione decente mi dispiace deludervi ma la risposta è no l'aviazione russa non potrebbe fare niente non può non può fare nulla neanche contro le forze aeree europee figuriamoci contro le forze aeree americane nel video scorso abbiamo parlato dei possibili effetti dell'impiego di un'ottantina di f-16 immaginate un migliaio di aerei di ultima generazione in campo per un'operazione che per numeri e potere aereo schierato in campo non si vedeva dai tempi di desert storm in sostanza questo lascerebbe le forze russe nello scompiglio e nel frattempo l'ucraina sarebbe in grado di sfruttare così l'enorme supremazia aerea americana per liberare i suoi territori ovviamente queste sono diciamo speculazioni non possiamo immaginare cosa accadrebbe realmente a cosa porterebbe una situazione del genere poi come risposta da parte russa ma se putin ha parlato di reali minacce e non blef a proposito dell'impiego dell'arma atomica beh gli americani non prendono le minacce alla leggera e fra l'altro hanno schierato altri b 52 aggiuntivi in voli continui e rotazione proprio sopra l'europa con il loro arsenale di missili cruis pronti al lancio e a questo poi bisogna aggiungere la reazione di tutta europa e la nato in generale quindi ecco io personalmente non credo proprio che la russia avrà mai il coraggio di lanciare per prima un attacco nucleare perché da un punto di vista tecnologico e militare oggi è totalmente inconsistente la forza armata russa è un attacco del genere darebbe soltanto maggiore slancio al sostegno militare per l'ucraina quindi a meno che non voglia distruggere il tempio con tutti i filistei putin non ha nessun motivo per darsi la zappa sui piedi in questo modo e figuriamoci se si verificasse un attacco nucleare contro una città ucraina avrebbe delle ripercussioni politiche devastanti per la russia e farebbe crollare anche il sostegno interno e la storia russa fra l'altro è costellata di eventi in cui il popolo ha messo al palo i propri dittatori insomma il lancio di un ordigno tattico poi da un punto di vista militare non ha senso se lo immaginiamo verso le postazioni ucraine il fronte si estende lungo più di 900 chilometri le concentrazioni di truppe sono molto limitate escluse alcune aree che abbiamo visto come bakhmut o aldicca per avere degli effetti insomma validi strategicamente le armi tattiche dovrebbero essere impiegate in massa per ottenere un effetto significativo contro le difese ucraine un attacco così massiccio è completamente privo di senso politicamente insostenibile per la russia l'obiettivo di queste armi sarebbe quello di terrorizzare le popolazioni occidentali e i loro politici con la prospettiva reale di una vera guerra nucleare ok nonostante la possibilità che tale guerra sia ancora meno probabile dopo l'inevitabile reazione americana ad un attacco del genere ma possiamo facilmente immaginare l'effetto che avrebbe un attacco nucleare russo in ucraina sui media occidentali quindi è veramente improponibile e improbabile che putin sia così pazzo da trascinare le proprie forze armate in un suicidio tattico di questo tipo solo per fare il gradasso e vedere che botta che fa un ordigno nucleare sul campo insomma la risposta degli stati uniti e di tutta la comunità internazionale sarebbe molto molto cattiva e immediata ma come si dice finora putin non ha dimostrato nessuna lungimiranza o saggezza tattica o politica insomma le nazioni che voleva intimidire o evitare che si schierassero con l'europa ora fanno parte della nato e comunque c'è anche da dire che un attacco nucleare tattico sarebbe letteralmente telefonato sarebbe annunciato perché i depositi di queste armi vengono tenuti d'occhio giorno e notte dai satelliti americani una colonna di mezzi in grado di trasportare un'arma del genere verrebbe individuata immediatamente e ovunque sia diretta verso un aeroporto o un porto navale verrebbe immediatamente seguita se non intercettata immediatamente e questo darebbe ampio preavviso agli stati uniti per prepararsi e preparare la risposta e c'è anche la possibilità che questo attacco venga addirittura intercettato prima di colpire e questo coprirebbe la russia di ulteriore vergogna ma a parte questo è piuttosto scontato dire che gli stati uniti non apprezzerebbero affatto e hanno come dire la risposta pronta ma a parte l'aspetto militare la risposta diplomatica americana alle minacce di putin non si è mai fatta attendere per un attacco del genere va letta sempre in chiave politica cioè l'abbiamo vista anche da un punto di vista di possibilità militare ma per citare le parole della casa bianca durante l'amministrazione biden la russia deve capire che usare per primi un'arma nucleare significherebbe fallire il proprio obiettivo e scatenare un incalcolabile e intollerabile costo da pagare per mosca queste sono le dichiarazioni che non sono di certo da prendere alla leggera ma a parte questo al di là delle speculazioni che vi ho presentato non spiegano di che costi stiamo parlando cioè è un'affermazione volutamente vaga e questo è fatto di proposito insomma per dirla alla romana su queste parole suonano un poco come non c'è prova se si resta vaghi sulla natura delle conseguenze sull'uso delle armi nucleari i russi saranno più cauti però ecco non voglio spoilerare ma è già successo che la russia tramite mercenari indirettamente abbia provocato gli americani tipo è successo il 7 l'otto febbraio 2018 e la risposta americana per usare un eufemismo diciamo che è stata sovradimensionata ecco però di questo ne parlerò in un altro episodio quindi signori il mondo è così fa abbastanza schifo con questi pezzi anzi scusate con questi pazzi da manicomio che minacciano di usare le armi nucleari io spero sempre che il karma esista e che tutte le volte che un dittatore o un politico faccia dei pensieri di questo tipo sull'uso delle atomiche immediatamente venga colto da un attacco di colite tale da costringerlo sulla tazza per giorni e che dire insomma della russia siamo in tanti ormai che stiamo sperando che il popolo russo si svegli e inventi una bella rivoluzione vecchio stile o qualcosa per spodestare questo matto a quel punto la guerra potrebbe finire in pochi giorni si spera quindi cari amici scusatemi oggi per queste considerazioni premetto che ho preso spunto da un bel po di video basta che cercate anche qui su youtube cosa accadrebbe se la russia attaccasse con armi nucleari ce ne sono tanti tutti hanno le loro diciamo versioni però più o meno si concorda tutti sul fatto che è veramente un'azione priva di senso da un punto di vista militare e strategico e un suicidio tattico politico da tutti i punti di vista sottolineo comunque che io non ho niente contro la russia e il popolo russo diciamo che sono semplicemente allergico alle dittature e se poi pretendono di avere anche ragione e di minacciare il mondo in questo modo mi parte un po il neurone come si dice quindi come sempre fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti un abbraccio alla prossima